Salve, il mio nome è Matteo Montaguti, sono ciclista professionista del team G2J la Mondiale e sono qui questa sera per fare un calore saluto a Ercole Baldini, il mio conterraneo di Forlì, la locomotiva di Forlì, con la quale sono cresciuto da bambino e nei ricordi delle sue gesta eroiche e sono molto contento che entri a far parte della Hall of Fame del ciclismo. Un saluto a tutti e soprattutto a Ercole Baldini.